Ciao a tutti da Joker Game con una nuova missione, un diamante rosa, però questa volta è diversa la storia ma me la sono progettata, vediamo se funziona. Sì, va bene lì, va bene lì, va bene, sì. Ok, ok, notte, ok. 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 Ok, vediamo. Ok, va bene così, per me una vale l'altra. Va bene, va bene. Però la mia strategia è un'altra. Non è dove sto andando, ho in mente un'altra cosa. Voglio vedere anche se questo black pin... Io lo voglio anche per muovermi in terra. E basta Pavel, tu sei la fotocopia della famiglia di quello lì, di cosa? Oh, come si chiama? Madonna. Oh, ma veramente? Oh, ma come si può? Giocare con questi qua che parlano dalla mattina alla sera. Io non so io dove hanno la testa questi qui. C'è la telecamera. C'è una telecamera là però eh. Vediamo se se ne accorgono. No. E basta! Scassamento di pale ubriacone di un russo. Eh, le devo dire quattro. Veramente, disturbano le persone. Ok. Ok. Basta! Sei zitto, ubriacone! Mi fate concentrare su scena. Mi fate concentrare, veramente. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. La Rockstar è veramente pesante eh. Per quello si ramentano le persone. eh, basta. Basta che non ti posso più sentire cazzo. Dove è blackfiend? Dove è? Forse è, eccolo là. Ok, bravo. Ok, ci siamo adesso. Ho cambiato strategia. Ho pensato un pochettino.. vedendo il colpo di oggi che è molto grosso è grosso il colpo ho detto facciamolo fatto bene ah un momento fammi scendere giù devo richiedere le armi mi stavo dimenticando ah ecco qua ok ho preso tutto c'erano 10... va che roba 5... ok ok benissimo e quindi adesso devo mettere questo motoscafolo in mente in un punto ma va o non va sto bidone? no 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 ovviamente è un peccato la Rockstar ha dei problemi ha dei problemi con i server forse perché come dicono è impegnata è impegnata a fare Rockstar 6 evidentemente hanno abbandonato un pochettino è lì eh ok però questo qui devo andare in un punto dove dico io adesso lo mettiamo fammi vedere una cosa io quando scappo ok io scenderò da qui fammi vedere lì c'è il muro di cinta ok ok lo lascio qui vediamo se è quello che ho pensato funziona tanto questo video se funziona lo pubblico se non funziona non lo pubblico però i soldi mi aibecco e pubblicherò un qualcosa di bello fatto da me però non ho visto video di nessuno ho solo pensato dato che c'è tanto malloppo è proprio lì all'aeroporto ho detto cambiamo strategia non usiamo più lo stealth eh ma vediamo se questo motoscafo mi rimane sul posto ma vediamo se questo motoscafo mi rimane sul posto did I ever tell you about the sewers in my hometown it was there I first decided to join the navy perhaps it will have the same effect on you we will see off you go ok ok poi non metto più neanche maschere perché ho visto che ho notato mi cambia la faccia me la mette giovane di un personaggio che non è questo quindi ho detto qui c'è qualcosa che non quadra nel gioco se vedi se questo qui non parlerei sarebbe un po' muto non riesco a farlo stare muto continuo a parlare e come come si dice come Lester un rompimento di balle di balle sempre a parlare a dire a fare corri vai ma stati un po' muto cazzo che le persone vogliono giocare qui non vogliono sentire tutto sto parlamento spiegazione si giulio cesare ok giulio giulio andiamo con la guardia sulla corretta ecco lì forse lui ce l'ha crepa niente chiavi o me le da dopo a sorpresa la prendiamo dopo tanto qui non c'è niente a prendere però voglio solo vedere no non prendo nulla certo che ultimamente ci sono dei problemi io lo muovo lui si sposta ok ok ti è venuto a scassarmi le palle ancora si io non devo ricordare proprio niente qui qui è qui perché qui 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. E qui ci siamo. Ok, io esco senza chiave. Non me ne frega niente. Ci sta chiave. Ok. Allora, spero che è il Rockstar che farà GTA 6, almeno che è in tutte le lingue del mondo, è in italiano. Ma come sta adesso, a me non piace, è per questo anche. Come si fa, come si fa a giocare con questo elemento? Ok. 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 Siamo fuori. E anche la luce si accende. Per forza, lo stesso comando. Ok. 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 La Blackfin è lì, dove l'ho lasciato. qua sotto. Ok. Dov'è? 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 Dov'è il Blackfin? Dov'è? 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 Dov'è il Blackfin? Dov'è? 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 No. Io ho messo qui. Ok, andiamo giù. E il Black Fiend non c'è Certo che io lo metto in giù e lui va su E' difettoso il gioco, è molto difettoso Guarda che roba Guarda che roba Vediamo che c'è un Rotary fermo senza muoverlo Guarda che roba Guarda che roba Adesso lo tengo con la mano sinistra il Rotary Per nuotare veloce io devo premere anche un tasto Non è possibile che mi cambia direzione Se no non posso nuotare veloce Vediamo se mi nuoto invece così No Ok sembrava che ci siamo Sì Sì C'è una guardia qui Ok 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 Tanto di lui non me ne frega niente A me di lui proprio non mi interessa Ok 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 Per il momento non mi ha individuato nessuno eh Dove la guardia qui Dove la guardia? Dove la guardia? C'è una finestra C'è una finestra Andiamo Ok 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 E i due guardi là sotto. Sta arrivando una macchina. Vabbè non mi spiega niente, ormai ci siamo. Viva quel cazzotto. E vabbè, è la prima volta eh. Quindi... Vabbè, ho preso il tutto, borsa piena. Vabbè. 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 che parli in aria vai via bastardo tu e il tuo amico beh peccato sopra lì è scattato l'allarme dovevo stare fermo dovevo aspettare che quella guardia si spostava più giù vabbè fa niente comunque sono contento lo stesso tanto magari alla fine mi dice non era neanche la missione con l'allarme perché non te lo dice non è che ti dice non devi far scattare l'allarme lo sai all'ultimo comunque il malloppo c'era qui e ho avuto una buona strategia stavolta invece di fare il nuoto vediamo che incasso un milione e quattrocentosettantotto un milione e mezzo l'ho presi ah 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 ecco vedi è questa non te lo dice prima meno di qui cambia sempre scatta l'allarme meno di 15 non mi interessa le litri guarda qua un milione e mezzo ho preso per 30.000 cosa manca 22.000 per 22.000 sono un milione e mezzo li ho presi tutti beh questo video l'ho registrato in 4k perché ne ho due di registratori uno me lo registra in hd e uno me lo registra in 4k quello del 4k io ho la licenza ho comprato anni fa quindi invece l'altro è della scheda video che ogni tanto uso tanto per provarlo più che altro vediamo quanto ho di incasso e chiudo poi il video e oggi avevo delle cose da fare e mi sono fatto solo questa quanti soldi ho? 317.813.000 ok il video finisce qui grazie chi lo vedrà spero che sia piaciuto peccato alla fine che non sarebbe scattato l'allarme però come ho detto nella missione non te lo dice e lo sai solo all'ultimo e questo qua non mi sembra neanche giusto ciao a tutti Joker chiude e al prossimo videos e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti